Siamo con Patrizio Caso, difensore classe 87, difensore centrale. Patrizio, sei uno dei più esperti, nonostante la tua giovanità. Una conferma la tua che è figlia delle tue ottime prestazioni con la maglia dell'Arzanese. Sì, ho fatto buone prestazioni, ma ringrazio l'allenatore che me l'ha permesso e la società, la piazza di Arzano che mi ha sempre stimolato. Hai sempre sudato la maglia, quello che tutti i tifosi vorrebbero da ogni giocatore, perciò sei uno tra i più amati della Rosa. Sì, è uno dei pochi pregi che ho, è il non mollare mai. È un pregio non da poco, visto il tuo carattere, un carattere forte che ti fa essere uno dei papabili per la fascia di capitano. C'è il mister, decide il mister chi farà il capitano. Io quello che posso dire è che posso mettere sempre il mio impegno, la mia voglia e la mia cattiveria a disposizione della squadra, dell'allenatore, dei compagni dell'Arzanese, della maglia. Patrizio, tu che sei uno dei vecchi, per così dire, se non peraltro perché hai già fatto parte dell'Arzanese, come vedi questo gruppo che si va pian piano formandosi? No, io quest'anno vedo proprio una società che si è amalgamata bene con l'allenatore, il direttore sportivo e vedo proprio professionalità e grande voglia di fare. Vedo una società che finalmente ha preso la mentalità da professionisti. Un bel punto di partenza, diciamo così, per salvarsi, visto che sarà molto difficile quest'anno. Sì, un campionato duro che ci vuole tanta voglia, cattiveria, fame, non bisogna mollare mai. L'Arzanese questa fame ce l'ha, parola di caso. Sì, come ce l'ho io ce la trasmetto a tutti, dall'allenatore che ce la trasmetta a noi e noi faremo di tutto per questa maglia. Allora, perfetto Patrizio, ci rivediamo a settembre con la prima di campionato e un in bocca al lupo da parte nostra. Grazie Grevi.